Ecco siamo, siamo a Hyde Park, ecco qua ci abbiamo l'acqua, il laghetto, ci abbiamo lì due statue, cioè una di due messe unite, ci abbiamo degli alberi, insomma non voglio essere noioso, qua è abbastanza simpatico, lì in fondo ci sono delle statue, eccole, ma insomma non si vedono, è abbastanza lontano, e così insomma stiamo passando una giornata al sole, lì ci stanno delle casette, non so qua solo no, e sì, da tutto per il momento ci ritendiamo più tardi, goodbye. Grazie.